Prego, scenda dalla bilancia. Ok, salga di nuovo ora. Sta lavorando molto ultimamente? No, non molto. Da quanto avverte il dolore? Da un po' di tempo, ma negli ultimi giorni è peggiorato. Ho avuto un incidente d'auto. Un incidente? Ma fisicamente è tutto a posto. Non si deve preoccupare. Sì, ma il dolore al collo è sempre più forte. Dalle lastre non risulta nessun problema. Forse è un semplice stiramento. Provi con il farmaco che le ho prescritto. Le ho prescritto. No, non è sempre più forte. No, non è sempre più forte. Non si deve r 산ccio. Perciò che l'ar New Life diventa è sempre più forte. Potenziale è più forte. Perciò, non è più forte. Chi è l'arico, è così molto più forte. Perciò, non è bene. Gli spiriti a volte vogliono rimanere accanto alle persone che amano